Buongiorno e buon mercoledì a tutti, oggi è mercoledì 24 marzo 2021, questa è Fano TV sul canale 17 ed è arrivato il momento di leggere insieme, di commentare insieme i titoli delle pagine selezionate per voi nella nostra rassegna stampa, occhio ai giornali, in onda tutti i giorni da 15 anni da lunedì al sabato. Allora siamo qui per iniziare questa nuova giornata insieme, lo facciamo con il santo del giorno, poi vi diamo un sguardo anche al tempo visto che anche se siamo costretti a casa, ma insomma Santa Caterina di Svezia oggi, il sole è sorto alle 6.06 e tramonterà alle 18 e 28 minuti, adesso uno sguardo al tempo. Fa ancora freddo, ma il tempo, le temperature inizieranno man mano già da domani a risalire, soprattutto nel corso della giornata quando saliremo sopra i 15 gradi centigradi, insomma questa mattina intorno alle 7, 6 e mezza, 7 ancora qui a Fano, erano 2-3 gradi, quindi fa freschino, ma da mercoledì vedete l'anticiclone in rimonta sull'Italia e avremo anche un clima più caldo anche se non sarà per tutti, ma la regione Marche godrà di questo momento di ripresa delle temperature. Allora velocemente solo uno sguardo alla cartina geografica delle Marche, vedete oggi, anzi questa mattina il sole con qualche nuvola più consistente nel settore meridionale, ecco questa è la sera, vediamo anche nella giornata di domani, vedete come il sole splende su tutta la nostra bella regione. E allora, adesso i giornali, subito il titolo d'apertura del Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, vaccini, i settantenni, dopo Pasqua, questo il titolo, l'assessore Saltamartini, prenotazioni per loro dai primi di aprile, intanto sull'effetto zona rossa, le Marche che sono ormai nella seconda settimana di zona rossa fanno registrare un meno 10% in questa settimana, al Monaldi invece a Pesaro, il centro dove si fanno i vaccini, il Siero ieri è arrivato in ritardo di tre ore, rabbia e assembramenti, prenotazioni scende in campo il CUP. Allora, questa però è la notizia, credo, più importante, la notizia del giorno se vogliamo, ed è sul Corriere Adriatico di oggi. La notizia è questa, non è bella ragazzi, è la scoperta dei laboratori di virologia del Torrette di Alcona che ha intercettato una nuova variante, lo vedremo nel dettaglio tra poco, anche se si sa pochissimo ancora di questa variante che però è stata, ahimè, scoperta, è una delle tante varianti che come diciamo spesso, anche per far capire un po' meglio come stanno andando le cose ai nostri telespettatori, le varianti non sono altro che un modo di sopravvivenza, un metodo di sopravvivenza del virus. Il virus si rende conto che l'uomo sta combattendo contro di lui con i vaccini e quant'altro e quindi muta per cercare di sopravvivere. Allora adesso invece le altre notizie, sempre dalla prima del Corriere, il Covid porta via Carlo Pensalfine, uno storico ristoratore di Pesero, poi la scuola in agitazione, venerdì protesta davanti al campus e multe falsa delega, una donna truffata ma non c'è il colpevole. Per quanto riguarda l'alta velocità delle marche, i treni, il progetto vale 60 milioni, cosa dicono le fondazioni e sotto la fusione piano diabolico, parliamo della fusione tra Aset, Fano e Marche Multiservizi, un piano diabolico utile agli interessi di parte, ne è convinto il sindaco di Cartoceto che difende l'autonomia di Aset. Ciao Carlo, re dei cuochi, questa è la fotonotizia del Carlino di Pesero di questa mattina, la morte di Pensalfine per Covid, un ricordo nelle pagine interne, a pagina 5 di Davide Eusebi sul Carlino di questa mattina. Intanto i vaccini, finalmente arrivano le dosi, fino a settembre Saltamartine annuncia 2 milioni e mezzo per le marche, i contagi, sale la pressione anche sulla provincia di Pesero e Urbino. La cronaca con un processo che si è chiuso a Pesero, vuole soldi dal prete, paga o racconto particolari hot, è stata condannata una donna per circonvenzioni di incapace, mentre superata quota 100, positivi boom, allarme anche ad Urbania. Il virus si porta via anche Giuseppe Donnarumma, poliziotto, il poliziotto buono e poi si tornerà a nascere pesaresi, ma solo dopo la pandemia. Verrà riaperto il reparto materno-infantile a Pesero. Intanto venerdì la protesta, commercianti e albergatori scendono in piazza. Ancora Tacchinardi, il mio Fano sarà da battaglia, l'ex giocatore della Juventus che è da ieri alla guida del timone Granat, il nuovo allenatore del Fano, e poi alla Spezia è stato varato il nuovo mega yacht di Valentino Rossi. Questa fotografia invece ha commosso tutti, eccola l'infermiera e il bambino. Sembra quasi il titolo di una fiaba. In realtà è tutto vero. Una foto simbolo che ha commosso la famiglia di questo bambino e i salesi. L'ospedale è stata scattata nel reparto di rianimazione dove Matteo era ricoverato per un'emergenza. La mamma dice sono commossa, umanità e professionalità. L'operatrice invece dice mi ha tolto il fiato. Allora queste due fotografie sono rispettivamente della mamma, Roberta Ferrante, sotto invece l'infermiera Katia Sandroni. Il titolo invece della pagina del Carnino di Ancona è sui vaccini, finalmente arrivano le dosi. Allora entriamo nelle pagine interne. Cominciamo da questa variante, questa variante che è stata scoperta dai virologi alla torrette di Ancona. Sotto il microscopio la grande fatica intanto degli ospedali, il virus continua a mutare, torrette individuata un altro cambiamento. Una mutazione diversa da quella inglese, sudafricana e brasiliana, isolate nei mesi scorsi che hanno cambiato il volto e anche la velocità di contagio del virus in questa delicatissima fase pandemica. La scoperta è avvenuta nelle scorse ore e probabilmente già oggi gli esperti virologi forniranno maggiori dettagli sulla variante individuata sette giorni dopo la scoperta in Piemonte della mutazione mixe fra l'inglese e la nigeriana. Un ulteriore cambiamento dunque del coronavirus che fa aprire nuovi scenari sull'emergenza sanitaria. Dubbi compresi. Qual è il dubbio? Il dubbio dei dubbi, ovvero i vaccini riusciranno a bloccare anche questo ennesimo cambiamento perché di questo ovviamente si parla e questo è il pericolo principale. Per ora, stando a quello che ci rassicurano, ci dicono gli esperti, per ora i vaccini funzionano anche con le varianti sin qui conosciute. Ma come abbiamo detto, appena detto, il virus continua a cambiare pelle e dunque vedremo che cosa combinerà. Intanto l'effetto zone rosse sul Corriere Adriatico, l'effetto zone rosse fa scendere la curva in una settimana a meno 10%, frenano i contagi nelle province di Ancona, Macerata e Ascoli, calo netto, meno anzi netto, a fermo e peso urbino. Infatti qui il problema, soprattutto anche nella nostra provincia, è quello che al posto di calare stanno salendo i contagi. l'incidenza dei nuovi positivi è diminuita in 10 giorni da 350 a 312 ogni 100 mila marchigiani. Ma è sempre ancora troppo alto perché 300-310 mila contagi alla settimana ogni 100 mila abitanti è ancora troppo alto. Dobbiamo arrivare a quei famosi 250 contagi ogni 100 mila abitanti. Se arriviamo lì, allora possiamo abbandonare la zona rossa. Se restiamo a 300-310 o anche oltre, caro mio, siamo costretti a queste limitazioni. Che poi tanto limitazioni, diciamocela tutta, per noi che non abbiamo un'attività commerciale eccetera eccetera, non sono neanche poi così tanto stringenti. Certo ti fanno i controlli, ti fermano, devi essere in qualche modo pronto con l'autocertificazione, dimostrare il perché sei fuori casa. Ma a guardare il traffico cittadino e a guardare quello che era il lockdown di un anno fa non c'è paragone. Il traffico è spaventoso allo stesso modo, a parte qualche fascia oraria. Ma il problema resta invece della zona rossa, soprattutto per chi ha un'attività. E questo sappiamo benissimo che crea grandi, grandissimi disagi dal punto di vista economico. Intanto sui vaccini ai settantenni, questa è un'altra notizia molto importante, arriveranno subito dopo Pasqua. Il piano della Regione. L'assessore Saltamartini ha aggiornato la tabella di marcia anti-covid. Nelle Marche 4 casi di complicanza con le dosi AstraZeneca. Nel mese di aprile arriveranno nella nostra Regione 210.000 vaccini che saranno interamente indirizzati a persone estremamente vulnerabili, alle persone con disabilità gravi, familiari eccetera. Ad annunciarlo è l'assessore Saltamartini che ha aggiornato quindi questa mappa della campagna vaccinale. Ieri lo ha fatto in Consiglio regionale. quindi questo è importante soprattutto per chi si sta domandando che cosa fare, come fare per vaccinarsi avendo tra i 70 e 79 anni. Nelle Marche parliamo di circa 130.000 soggetti. Ora, dai primi giorni del prossimo mese, torniamo di nuovo qui sul giornale, attenzione, dai primi giorni del prossimo mese, verranno aperti sul sito di poste italiane due slot di prenotazione. Uno destinate alla categoria dei caregiver e dei familiari, circa 99.000 soggetti che assistono persone con disabilità grave. L'altro alla fascia d'età 70-79 anni che sono appunto, come dicevo, circa 130.000 soggetti. Contiamo di iniziare la vaccinazione di questi target nei giorni immediatamente successivi, la Pasqua, ovvero tra un paio di settimane. Non hanno invece bisogno di prenotazione i soggetti estremamente vulnerabili, ovvero affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze, per i quali le somministrazioni sono già partite nei scorsi giorni. Si è iniziato con circa 1.700 persone, tra dializzati e persone in attesa di un trapianto o che ne hanno di recente subito uno. Quindi parliamo davvero di soggetti che hanno e che in questo momento sono seguiti, seguiti dal proprio medico curante, specialista e quant'altro. Tutti gli altri, dopo Pasqua, ci sono questi siti dove si potranno appunto iniziare le prenotazioni tra i 70 e i 79 anni. Intanto anche il resto del Carlino, vaccini fino a settembre, 2 milioni e mezzo di dosi, dopo anziani e fragili si rispetta solo l'età. L'assessore dice medici di base pronti ma ancora manca il prodotto, si ero agli operai invece da fine maggio. Da fine maggio teoricamente anche in tutte le aziende, tutto quel famoso progetto di fare i vaccini praticamente in continuazione, anche fuori dai centri vaccinali che oggi abbiamo conosciuto. Ecco, questo inizierà intorno alla fine di maggio, quindi anche tutte queste aziende che hanno dato, tutti questi imprenditori che con generosità è slancio, hanno dichiarato di voler dare una mano, anche pagando il siero e quant'altro. Ebbene, tutto questo intorno alla fine di maggio. Intanto sul Carlino di Pesero, il titolo di quest'altra pagina dedicata al Covid è Sempre più pazienti hanno bisogno di ossigeno. Il nuovo reparto di subintensiva è già affollato. Parla Francesco Barchiesi, primario di malattie infettive riconvertito per cure a media intensità. E lui dice il dottore Francesco Barchiesi che c'è gente giovane, giovane e anche molto compromessa. Quindi questi giovani che spesso si fa fatica a vedere con le mascherine, che pensano di essere immuni da questa malattia, da questo contagio, stanno provando, stanno iniziando a provare sulla loro pelle che la questione non è come pensano loro. E in tanti sono quelli ricoverati in semi intensiva. Intanto questa fotografia ve la mostro dal Carlino nazionale in primo piano. È una coppia di anziani, 82 e 77 anni, da giorni queste due persone, questi due anziani, chiedono in vano di essere vaccinati. La loro protesta è arrivata anche su internet. Il governo punta a un monitoraggio costante, è una sorta di commissariamento per chi resta indietro. Comunque i vaccini sono ancora pochi. Arriva l'esercito, speriamo che serva a qualche cosa. Che cosa c'è scritto in questi cartelli? Andiamo a vederlo insieme, allarghiamo l'immagine. Allora, la signora tiene un cartello con scritto 77 anni, fiorentino, immunodepressa, oncologica, ancora non vaccinata. Lui invece, il marito, tiene un altro cartello, 82 anni, fiorentino, ancora non vaccinato, in coda ad altri 100. Marche Nord, siamo in provincia di Peso Urbino. Marche Nord in crisi, l'ospedale di Cagli riceve i suoi pazienti. La regione chiede alla COS di smantellare la struttura di lungodegenza, corsa contro il tempo per ricollocare i ricoverati. Al Celli, 30 nuovi posti. Entro la settimana la struttura ospedaliera privata a gestione COS Care, Santo Stefano di Cagli, sarà riconvertita in struttura Covid. La sofferenza di Marche Nord, infatti, parliamo quindi del San Salvatore a Pesaro, non accenna a calare. Con il progressivo aumento di contagi e ricoveri, la struttura non è più in grado di accogliere tutti. Scrive in questo articolo Letizia Francesconi, l'alleggerimento coinvolge anche la sanità ducale, quindi l'ospedale di Urbino. Intanto la pagina dei lutti, pagina 4, addio a Giuseppe Donnarumma, per tutti è stato il poliziotto Gentiluomo. Aveva diretto la squadra mobile, quindi il commissariato di Fano, per diventare poi capo di gabinetto. Oggi alle 15 a Cattabrighe, nella chiesa di Cattabrighe, ci sarà il funerale. È morto, aveva 79 anni, Giuseppe Donnarumma, una carriera tutta pesarese, la sua tranne gli ultimi anni, quando con il ruolo di vicequestore andò prima a Chieti e poi a Rimini. Intanto altri 13 lutti in regione, 4 erano del pesarese, tra cui anche una donna di 90 anni, una donna di 90 anni di Fano. Poi ci sono un 78enne di Pesaro, un 84enne di Fermignano, un 88enne di Cartoceto e poi dicevamo una 90enne di Fano. Poi altre vittime, Anconetano e quant'altro. Sempre a Pesaro è morto Carlo, il maestro della cucina. Per lui una pagina intera dedicata nel Carlino di oggi. Pensa al fine, se n'è andato a 90 anni nella sua abitazione a causa del Covid, ha scritto un'epoca con i locali di Via Venturini e Viale Trieste. Aveva compiuto 90 anni ad agosto, Carlo pensa al fine, il celebre cuoco pesarese deceduto a lunedì pomeriggio nella sua casa. Aveva contratto il virus nella sua variante più bastarda e aggressiva, che lo ha vinto approfittando anche dei malanni di un tenace, indomito dolcissimo novantenne. E così si spengono con lui anche i fornelli di un'epoca. Si chiude un libro dentro il quale ci sono scritti nomi di generazioni di pesaresi, di personaggi celebri che quando passavano per Pesaro non potevano non andare nel suo ristorante di Via Venturini, prima in Viale Trieste e poi per assaggiare quel bacio dell'Adriatico che aveva fatto il Giro d'Italia. Lo ricordo così Davide Eusebi questa mattina. Poi con lui è nata la degustazione alla pesarese, tra i ricordi e gli aneddoti rimproverò la Pavone e Gasman e salvò la faccia a Corrado, lo ricorda Franco Bertini. A Urbani invece allarme rosso, 106 contagi, nell'ultima settimana a Balzo Repentino 146 le persone in quarantena, strade deserte e massima attenzione, superata quota 100 nell'antica Castel Durante che tante volte nelle prime ondate di pandemie si era distinta per atti di solidarietà o iniziative brillanti, questa volta però non è a Urbani una buona notizia. I positivi sono arrivati a quota 106, un numero impressionante che nemmeno lo scorso anno era mai stato toccato quando al massimo il numero dei positivi si era attestato intorno agli 80 casi, scrive Andrea Angelini. Neanche lo scorso anno appunto era successo. Il sindaco raccomanda, sindaco di Urbani, restate a casa. Sindaco Ciccolini negli ultimi dieci giorni dice la curva dei contagi si è accesa, crescendo fino a toccare quota 106. Mentre sul Corriere di oggi solo 20 rifiutano AstraZeneca, quindi torniamo a parlare di vaccini, ma ai fragili i medici questo vaccino non lo danno giustamente. Al Codman è ripresa ieri la somministrazione del vaccino già sospesa precauzionalmente dall'EMA. Possiamo dire però che tutto sommato la gente ha capito e magari con qualche patema d'anima in più, con qualche battito accelerato in più del cuore, ma sta affrontando questa vaccinazione anche con AstraZeneca, con senso di responsabilità. D'altra parte non abbiamo grandi scelte, bisogna fidarsi, fidarsi della scienza, fidarsi di quello che ci dicono coloro che sono lì a tutela della nostra salute. Intanto cambiamo argomento, andiamo sempre sulla pagina di Fano del Corriere, perché c'è una dichiarazione forte del sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, che è stato nostro ospite l'altra sera qui a Primo Cittadino. Enrico Rossi interviene sulla fusione di Aset con Marche Multiservizi e la definisce fusione diabolica. Ora i costi sono più bassi e si fanno più investimenti, e quindi il sindaco di Cartoceto tuona contro questa azienda unica dei servizi e definisce questa iniziativa solo interessi di parte. E gli interessi di parte di chi sono? Sono di ERA, grande società emiliana e del Partito Democratico. E su questo c'è un articolo che scrive Lorenzo Furlani, interessantissimo, questa mattina, disgustoso, dice Rossi l'allarme per i lavoratori, la società è solida, nessun posto di lavoro è a rischio. Mentre l'Udc dura battaglia per salvare una società gioiello, Polegioni, che è il nuovo coordinatore comunale, chiede le dimissioni generali. Cinque concorsi congelati, sempre su Fano dal Corriere, non è tutta colpa del Covid, pubblicati ma non espletati i bandi per tre dirigenti, un funzionario e due giornalisti. Il protocollo del CTS per lo svolgimento delle prove consentirebbe al Comune comunque di procedere, scrive Andrea Amaduzzi. Ciclovia, 1200 firme per il vecchio progetto, Comitato insiste nel contestare alla Regione l'itinerario distanziato della ferrovia. Dalla ferrovia poi al Donati di Fossombrone, che è una scuola, una scuola superiore, vanno 4 milioni per il progetto antisismico. L'annuncio è del Presidente della Provincia Paolini, alla dirigente dell'Istituto. Collaborazione con l'ambito sociale. Poi sotto invece, spacciatore preso in strada in casa, aveva sei etti di hashish, è sempre da Fossombrone questa notizia di cronaca, un cinquantenne intrappolato nella rete dei controlli anti-Covid dei Carabinieri. Mentre a Frontone, tartufaia sperimentale avviata sul Monte Catre, una collaborazione tra la Regione e l'azienda speciale per la produzione dello scorzone d'autunno per il Vice Presidente Carloni, progetto esemplare in termini di qualità e sostenibilità. Mentre a Mondolfo, mettete dissuasori meccanici per i piccioni. Lucchetti sollecita un intervento contro il degrado e il rischio igienico. Il Comune, siamo di nuovo sulle pagine di Fano, ma questa volta del resto del Carino, il Comune non paga i tirocinanti e scattano dunque le proteste. 15 lavoratori senza segno da gennaio. L'assessore Tinti dice la Regione non ha mandato i soldi, provvederemo con i fondi nostri. La liquidazione richiede tempi tecnici che sono dettati dalla legge. Lui dice ho fatto il possibile contro la burocrazia. Intanto servizi sociali verso l'aziendalizzazione no di Movimento 5 Stelle e sempre dalle croniche di Fano dell'arresto del Carino il mio gatto ucciso col fucile e non solo, e non è il solo. Silvia Scrilatti di Metauriglia di Fano ha denunciato il fatto ai carabinieri e ha detto, ci sono persone residenti in zona che mi hanno detto che era successo anche al loro gatto, aveva un piombino conficcato nella trachea, hanno mirato praticamente un punto chiaramente vitale. Poi un racconto di Tombari per il Dante Di della Carnevalesca. Domani Claudio Pacifici e Marco Florio interpreteranno la storia con uno show trasmesso in TV e sui social. Chiaramente quando parliamo di TV parliamo di Fano TV e quindi per tutti coloro che vorranno seguire questa lettura potranno collegarsi giovedì 25 marzo alle ore 21 su Fano TV o alle 21.30 nelle pagine social del Carnevale di Fano del Comune o Visit Fano. Poi c'è un premio, un premio d'ondiana dalla Chiesa, l'orgoglio dello staff di passaggio, il riconoscimento del Presidente del Comitato Scientifico che testimonia la giusta scelta fatta. E sulla pagina di Fano invece del resto del Cardino, sempre sulla questione Aset, Marche Multiservizi, se riapre ai sindaci e dice, parliamone, il sindaco accetta la proposta di affrontare il tema del futuro della società, contrario a guerre di religione, sceglierò in base ai fatti. Perché parla Massimo Seri in questi termini? Perché come abbiamo detto Aset è pressoché in mano, quasi tutta in mano al Comune di Fano. La maggioranza delle quote ce l'ha il Comune, oltre il 90%, quindi gli altri comuni hanno soltanto le briciole. Però gli altri comuni, rispetto a questa possibilità di fondersi con Marche Multiservizi, giustamente chiedono di poter dire la loro. E Seri, che inizialmente pareva essere poco interessato a sentire le altre campane, adesso invece dice, parliamone, e aggiunge, sono contrario a guerre di religione, sceglierò in base ai fatti. C'è la volontà di costruirlo insieme, questo biodigestore, è ora di parlare di quote. Barricate a Cartoceto, invece anche qui la presa di posizione di Enrico Rossi, ad era metà dell'utile. Il primo cittadino mette in guardia i colleghi, hanno capito come avverrà la redistribuzione. Si domanda, perché secondo Enrico Rossi bisogna andarci piano e guardare bene le carte. Fermignano invece salta allo storico paglio della Rana, quello che si tiene sempre la domenica in Albis, quindi dopo Pasqua. Il Covid annulla la corsa delle rane e quindi un'altra delle tante iniziative che saltano. Sindaco dottore in pensione, Marchetti, dedizione unica. Andiamo a Fermignano di nuovo. Il dottor Fabio Marchetti, stimatissimo medico di famiglia di Fermignano, il primo aprile prossimo andrà ufficialmente in pensione. Un modello per la comunità, tanto che una moltitudine di suoi assistiti ha inteso rivolgere per mezzo di un portavoce un sincero saluto e un sentito ringraziamento. Ecco, quindi questo per dire quanto è entrato nel cuore della gente, quanto ha seminato bene questo medico. Nasceremo pesaresi, titola il Carlino di Pesaro questa mattina, ma dopo la pandemia, unanimità per la mozione di Baiocchi in regione, finita l'emergenza sanitaria, il Dipartimento Materno Infantile tornerà al San Salvatore. Mentre oggi, lo ricordiamo, si può partorire soltanto al Santa Croce di Fano. E quindi, naturalmente, se uno nasce all'ospedale di Fano, poi nella carta d'identità e in tutti i documenti e per tutta la vita sarà nato a Fano, anche per i pesaresi. Nel 2020, nella nostra provincia, 200 parti in meno. Perché? Perché molti, pur di non nascere fanesi, sono andati dove? A Rimini. E quindi sono nati riminesi. E con questo andiamo sulla pagina di, eccola qua, per vedere la foto dello super yacht varato dell'extralusso, varato nei giorni scorsi alla Spezia, un yacht di Valentino Rossi. Per il battesimo dell'acqua, l'altro ieri alla Spezia, il fidato Albi. Lo scafo è lungo 28 metri, costa 8 milioni di euro e adesso è atteso al porto di Pesaro, dove si potrà ammirare in tutto il suo spendore. Qui a fianco, invece, Valentino Rossi con la sua fidanzata. Pare che ci sia stata competizione con la Ferretti, ma non credo a forti sconti. Va bene, questo è quello che ha detto. Andiamo sulle pagine di Senigallia. Il Corriere Adriatico, questa mattina, pubblica tre pagine su Senigallia. Lavori sulla banchina di Levante, la Regione, bisogna sbloccarli. Lettera al Prefetto contro lo stop della provincia. Il dirigente Stefoni dice a rischio i 970 mila euro per il Misa. L'altra pagina, Nuova Ponte Garibaldi, chi lo finanzia, si potrebbe, ma non è tra le priorità. Mentre c'è da garantire il Samar Giamborì, Olivetti, il sindaco di Senigallia, allarga la pratea degli sponsor, punta su una soluzione che consentirebbe di assicurare il Festival fino al 2025. Poi la salvezza passa anche per il derby. Siamo allo sport. Domenica, non dimentichiamoci, c'è il grande derby di calcio tra Fano e Vis. Poi, a proposito di Fano, il Fano ci prova con Tacchinardi, presentato l'ex giocatore della Juve, che adesso allena il Fano. Niente rivoluzioni in squadra, ma è chiaro che ho le mie idee. Prima di salutarci, vi ricordo che alle 9 abbiamo l'udienza del Santo Padre in diretta, poi alle 11 di questa mattina dal Santuario di Loreto la messa, sempre dalla Madonna di Loreto, patrona degli aeronauti, alle 16.30 esplorare i confini e alle 21 la 12esima puntata di Oltre la Bici. Alle 20.30 c'è Occhio alla Notizia, il nostro telegiornale. Arrivederci. Grazie. Grazie.